E' stato sottoscritto stamani presso l'Assessorato al Turismo l'accordo di programma tra la DMC Costa dei Trabocchi e quella del Sangro Aventino che costituisce la destinazione turistica di eccellenza della Costa dei Trabocchi al Parco Nazionale della Maiella. Un accordo strategico e lungimirante è stato detto che unisce un territorio turisticamente strategico dove insistono bellezze naturali uniche come il versante orientale della Maiella, la Costa dei Trabocchi, eccellenze territoriali, cultura, tradizioni ed un tessuto imprenditoriale importante. La regione Abruzzo dunque sempre più regione bike friendly, presentato anche un nuovo logo. Credo che sia un modo nuovo di turismo che sta prendendo piede, su cui noi abbiamo già sviluppato una serie di ragionamenti che stanno dando i loro risultati e dobbiamo continuare a portare avanti, anche perché in campo abbiamo sicuramente una pista, quella della Costa dei Trabocchi, ma l'insieme delle piste che in regione Abruzzo comunque stiamo portando avanti che credo nei prossimi anni ci darà delle belle soddisfazioni e quindi non ci possiamo far trovare impreparati. Oggi alla costa uniamo le zone interne, la montagna, un settore particolarmente importante che sta prendendo piede anche forse per questo virus che è in giro. Prima qualcuno in conferenza stampa diceva che le presenze sono quintuplicate e quindi bisogna tenere conto anche di questo. Centinaia di chilometri di pista ciclabile che però dovranno essere gestiti uniformemente perché si rischia altrimenti che questa infrastruttura possa degradarsi con il tempo. Su questo stiamo già lavorando da tempo, sappiamo che la frammentazione con i comuni non ci può essere, soprattutto gli stessi comuni non sono in grado di gestire, peraltro quella deve avere una gestione unitaria quindi per forza da un ente sovracomunale. Credo che nelle prossime settimane, fine settembre e ottobre, comunque presenteremo un progetto complessivo che darà delle belle soddisfazioni.